ehi super guys mi è appena arrivato questo pacco dalla De Agostini all'interno c'è una nuova collezione che adesso vedremo di che cosa si tratta let's go ecco ragazzi mi sono appena arrivati i primi fascicoli della nuova collezione De Agostini camion d'epoca nella scatola ho trovato i primi due modelli dell'opera eccoli qua Alfa Romeo 1000 e OM Leoncino con i loro fascicoli a corredo dove sono spiegati nei minimi dettagli e cenni storici quanto sono belli ragazzi non sono neanche tanto piccoli pur essendo di una scala 1 a 43 ben verniciati in ogni dettaglio hanno anche i sediolini interni e sono ben rifiniti ehi super guy